Gravellona sempre più commerciale. Presto infatti sorgerà un nuovo supermercato nell'area compresa tra la ex legatoria del Verbano e il nuovo complesso residenziale La Filanda. I lavori sono cominciati la scorsa settimana e dovrebbero concludersi in pochi mesi. In un primo momento, conferma e da sindaco Gianni Morandi, si parlava di un edificio di 4-5 piani con motel ed altri spazi destinati ad attività commerciali di ammetratura. Alla fine invece sarà realizzato un prefabbricato di un solo piano, la cui ultimazione sarà davvero molto rapida. Qualcuno obietterà che Gravellona è sempre più la città dei supermercati e dei centri commerciali, ma alcune scelte sono forzate e soprattutto non dipendono dall'amministrazione comunale che non è proprietaria dell'area in questione destinata da tempo ad attività commerciale. Il sindaco però vuole guardare il lato positivo, indipendentemente da come la si pensi nell'eterna diatriba tra centri commerciali e piccoli negozi. Il dato inconfutabile è che saranno garantiti altri posti di lavoro, un aspetto da non sottovalutare in un periodo come questo, conclude Morandi. Stando a voci confermate, il nuovo supermercato dovrebbe essere della catena Aldi.